In questa puntata, MPS, il Consiglio chiede di ricapitalizzare la banca, Economia, ristoria ad aziende e famiglie, Bandi per maestri di sci e proloco, Sostegno per città murate e beni di pregio, Contributi ai comuni per realizzare parcheggi. Si è tenuta questa settimana una seduta del Consiglio regionale interamente dedicata alla questione del Monte dei Paschi di Siena. Alla fine della lunga discussione è stata approvata, a larga maggioranza, con l'assenzione di Fratelli d'Italia, la risoluzione per chiedere al Governo di ricapitalizzare MPS e rimandare la privatizzazione. È stata una discussione importante, intensa, consentitemi di ringraziare tutte le forze politiche. C'è stato uno sforzo teso all'unità, ci siamo arrivati molto vicini. L'obiettivo primario era dare al Presidente Eugenio Gianni una linea di indirizzo largamente condivisa da tutte le forze politiche. Dobbiamo lavorare perché sia dato un futuro a questa presenza e all'azione che questo istituto potrà continuare ad avere nei confronti della nostra economia, soprattutto delle piccole e medie imprese, delle famiglie e continuare anche a dare occupazione diretta così come ha fatto e sta facendo. Per far questo riteniamo che deve essere rinviata l'uscita del capitale pubblico dal Monte dei Paschi e questo anche per dare la possibilità di continuare a lavorare per tutelarne il marchio, che è un marchio glorioso, il radicamento, i livelli occupazionali, il suo ruolo nel tessuto economico e sociale della Toscana. Noi pensavamo, quando Giuseppe Conte era Presidente del Consiglio, che la privatizzazione di MPS andasse rimandata di almeno 24 mesi. Ora è cambiato il Presidente del Consiglio e non è che perché adesso si chiama Mario Draghi e di professione ha fatto per una vita il banchiere, noi cambiamo idea. Così come su altri temi, noi non possiamo oggi arrivare in aula e votare un documento in cui ci diciamo che ci vogliamo tutti bene e che dobbiamo salvare MPS per il bene di Siena e ci mancherebbe altro, tutto vero. Ma non possiamo ignorare quello che è successo negli ultimi anni e che se oggi MPS si trova con l'acqua alla gola è così perché è colpa degli alieni. È colpa di una parte politica, la sinistra, che ha governato a Siena e ha messo le mani in MPS per 30 anni, per 40 anni e ha creato questo dissesto. Abbiamo dato un contributo di idee, anche ecco veramente una progettualità di un cammino da seguire. Sappiamo che a metà del 2022 vi è l'impegno di dismissione delle quote in Banca Monte dei Paschi da parte del Tesoro. Noi chiediamo in considerazione del carattere eccezionale dell'emergenza che stiamo vivendo una moratoria di 30 mesi così come chiediamo una proroga di 12 mesi per quanto riguarda il Golden Power nei confronti dei soggetti europei. Condividiamo la richiesta di sostegno della iniziativa della Fondazione Monte dei Paschi di Risarcimento nei confronti della Banca e proprio per questo abbiamo chiesto che sia nominato un advisor che possa seguire appunto la soluzione della controversia. Chiediamo un nuovo ruolo di Fidi Toscana perché vi sia l'impegno diretto della regione toscana anche sotto questo punto di vista. Temiamo che possa esservi delle ulteriori conseguenze negative dopo anni difficili per le banche toscane e questo non ce lo possiamo permettere non ce lo possiamo permettere soprattutto dal punto di vista occupazionale. Monte dei Paschi è la principale azienda della Toscana è l'azienda più antica bancaria oggi ancora esistente nel nostro paese deve essere ambiziosa. Siena è una città ambiziosa, lo è la Toscana l'obiettivo è supportare il nostro Presidente al cospetto del Governo per fare in modo che Monte dei Paschi rimanga la terza banca d'Italia per fare questo deve essere il coprotagonista di un processo di crescita con soggetti paritetici e soprattutto il Governo deve fare la propria parte. Facendo in modo che i dipendenti, marchi o storia di questa banca possa rimanere a Siena, possa rimanere in Toscana e dalla Toscana si possa avere un processo di aggregazione che veda il centro Monte dei Paschi. Noi come sempre da forza responsabile abbiamo detto di sì al documento unitario dove il caposaldo era quello che ormai chiediamo da sempre che il nostro Senatore Massimo Mallegni ormai da tanti mesi dice la salvaguardia dei posti di lavoro, la salvaguardia delle aziende e lasciare Monte dei Paschi nelle mani del Tesoro per dare la possibilità di costruire un percorso che accompagni quella che è la quarta banca italiana la banca più vecchia al mondo per dare delle radici solide. Questo non esula però dalla responsabilità del Partito Democratico di quella gestione di quella banca dalla commissione fra la politica e la banca. Nell'intervento che ho fatto in aula ci ho tenuto a ricostruire quello che è stato il lavoro di due anni della prima commissione che è stata fatta qui in regione Toscana proprio su quello che è avvenuto su Monte dei Paschi che è stata presidenza del Movimento 5 Stelle dal 2015 al 2016 perché ciò che è avvenuto, quegli intrecci tra politica e finanza che tanto male hanno fatto a Monte dei Paschi di conseguenza ai risparmiatori, agli azionisti e al territorio non solo regionale ma anche nazionale non ci fossero più. Questo è il momento invece di andare davanti al Governo nazionale agli interlocutori a dire chiaramente cosa vogliamo fare per sostenere la banca più antica del mondo. Il Consiglio ha approvato nella seduta precedente due risoluzioni che invitano la Giunta a destinare i ristori alle aziende e alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi a causa della pandemia. Sostanzialmente chiedevamo anche di poter riempiegare quelle risorse che dai bandi sono sempre residuali facendo in modo e maniera che i limiti di fatturato sotto i quali arrivare a far domanda potessero scendere dal 40 al 30% per quanto riguarda il mondo della ristorazione. C'è poi un impegno preciso affinché la nostra regione nella conferenza Stato-Regioni tenga conto per quello che riguarda i ristori qui in quest di ricordarsi di tutte quelle categorie che fino ad oggi sono rimaste al di fuori sostanzialmente del mondo dei ristori e al tempo stesso fare in modo e maniera che fra queste categorie quelle che sono legate alla fila del turismo potessero appunto riprendersi sostanzialmente da tutti quei tipi di ristori che precedentemente non hanno potuto incontrare. Questa necessità nasce ovviamente dalla volontà condivisa anche a dimostrazione che ogni tanto si può anche lavorare insieme e di riportare in commissione alcune mozioni di tutti i partiti che riguardavano tutte quelle aziende e quelle attività che hanno bisogno e che hanno subito grossi danni nel periodo della pandemia. Siamo riusciti a portare tramite un nostro atto la riformulazione di quel bando per i ristoratori, per i bar che prevedeva il calo del fatturato di almeno il 40% per poter accedere, l'abbiamo spostato al 30% proprio per consentire a questa categoria queste categorie che sono tra le più pesantemente colpite di poter ricevere qualche aiuto anche dalla Regione e poi abbiamo sollevato i grandi temi anche da portare al Governo come per esempio il tema degli albergatori, i benzinai anche altre categorie come quelle del fitness, delle palestre. È emerso un atto condiviso al quale abbiamo lavorato insieme a tante forze politiche, anche noi abbiamo portato il nostro contributo, è importante dare un ulteriore sostegno a molte attività produttive che in questo momento sono chiuse va dato sostegno ovviamente ai ristoratori non solo, anche al commercio, il commercio di vicinato così come dentro i centri commerciali sta soffrendo poi ci sono tutta una serie di attività collegate soprattutto al turismo collegate ai trasporti, agli NCC, ai tassisti a tante attività, anche quelle alberghiere. Ci siamo accorti che c'erano tantissime emozioni fatte da tante forze politiche, quasi tutte per sollecitare ristori per tutte quelle categorie che erano state escluse. Nello scorso Consiglio regionale era stata fatta la proposta di unificarle in un atto unico è stato fatto tutto ciò in commissione Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle siamo riusciti a far inserire anche un contributo per le scuole di lingua e cultura italiana Noi come Forza Italia siamo partiti da un punto fermo però su quel decreto ristori che erano stati stanziati dei milioni di euro per l'oreca cioè per la ristorazione, per la somministrazione, per la ristorazione, per i bar per tutta una filiera che riguardava appunto l'oreca quei soldi lì devono rimanere in quel comparto Poi abbiamo chiesto che il Governo stanzi ulteriori risorse per aiutare alcuni comparti che sono estremamente colpiti che non sono stati tenuti in considerazione dalla Regione che hanno avuto pochissimo dallo Stato e quindi abbiamo bisogno di mettere un'iniezione di danaro fresco nelle casse delle nostre aziende Penso ai tassisti, penso agli ambulanti, penso ai mercati fieristi penso agli alberghi, penso a tutto ciò che ruota intorno al turismo È aperto fino al 15 marzo il bando per il contributo una tantum di 800 euro per ogni maestro di sci della Toscana che lavori in modo continuativo nella Regione e sia iscritto all'albo professionale Fino al 26 marzo è invece aperto il bando per le proloco che riceveranno automaticamente il contributo sulla base delle domande pervenute Fondi messi a disposizione su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale grazie ai risparmi di bilancio del Consiglio Un milione e mezzo di euro derivanti dalla riduzione dei costi della politica messi a disposizione di chi non ce la fa Per quanto riguarda in particolare la montagna Fratelli d'Italia, che pure ha votato il provvedimento ricorda che era stato pensato quando si credeva ancora che le piste potessero riaprire a gennaio È una boccata d'ossigeno in controtendenza ma non è sufficiente La richiesta alla Regione è che stanzi per la montagna quanto ha previsto per il Maggio Musicale e per la Fondazione Toscana Cultura 5 milioni di euro da parte della Regione Toscana per la montagna Approvate all'unanimità due leggi per valorizzare il patrimonio storico degli antilocali Uno riguardante le città murate Credo che si prosegua in una tradizione perché è una legge di consiglio regionale che diventa invece una legge di giunta incardinata nel bilancio triennale dell'ente Quindi si finanzieranno gli interventi dei comuni che sono volti a consolidare, valorizzare, consentire la fruizione di elementi di scinte murari o di fortificazione delle città L'altro, i beni di pregio Si ritiene di pregio per una comunità, per un ente locale quel bene nel quale la comunità si riconosca, al quale la comunità riconosca un valore che può essere un bene notificato, un bene monumentale ma anche un bene storico di pregio che abbia un rilievo tale per i cittadini di quel territorio La rigenerazione e riqualificazione urbana, il decongestionamento dei centri abitati e il miglioramento della mobilità sono i capisaldi attorno ai quali ruota la nuova legge regionale, approvata a larga maggioranza che prevede contributi ai comuni per realizzare parcheggi Un milione e mezzo per tre anni intende dare l'opportunità ai comuni che ne faranno richiesta di presentare un progetto per realizzare dei posteggi che tengano conto di una serie di variabili e di criteri che sono l'intermodalità con il servizio pubblico, il fatto che nella città o paese ci siano pochi posteggi quindi non si è rispettato il parametro previsto dalla legge ma soprattutto è quello di alleggerire da una parte i centri storici dall'altra creare anche dei posteggi di quelli che si chiamano di testata per far sì che le auto girino meno nelle nostre città e invece si favorisca il posteggio dell'auto e poi la percorrenza a piedi Concordiamo nel fatto che ci debba essere un'intermodalità tra i parcheggi scambiatori e una mobilità meno impattante per la città che porti meno auto in centro però a me fa un po' paura l'idea di realizzare grandi parcheggi così senza mettere delle limitazioni sono ormai 10.000 i bambini aiutati dall'associazione Cure to Children l'ultima in ordine di tempo è una bambina del Camerun testimonial da sempre dell'associazione che non investe in pubblicità è Leonardo Pieraccioni il quale ha poi coinvolto anche gli amici di sempre Conti e Panariello è il loro volto quello sui calendari il cui acquisto insieme al 5x1000 è uno degli introiti principali dell'associazione calendari che in questi giorni sono stati presentati in consiglio regionale Cure to Children da 12 anni lavora per portare la cura e la prevenzione direttamente in loco oltre al sostegno logistico fornisce medici e personale sanitario il contributo non è rivolto alle grandi emergenze umanitarie ma piuttosto a quelle quotidiane di famiglie con figli affetti da patologie gravi che soffrono e muoiono per la mancanza di cure nei loro paesi Ogni qualvolta le iniziative di solidarietà bussano alla porta del consiglio regionale noi diciamo presente io sono stato subito colpito dall'impegno, dal lavoro che viene messo in campo dall'associazione Cure to Children che ho subito aderito all'iniziativa Grazie a tutti